Con tutta evidenza per l'amministrazione comunale di Parma c'è crisi e crisi. Se da una parte la situazione è tanto grave da obbligare a consistenti tagli al welfare, dall'altra non mancano risorse per piccoli acquisti, la cui utilità è quantomeno opinabile. L'ennesimo attacco alla giunta Pizzarotti arriva oggi da Roberto Ghiretti, leader di Parma Unita, che se la prende con la decisione dell'amministrazione comunale di dotare la polizia municipale di uno scudo protettivo balistico comprensivo di carrello e anche di un cuscino per il trattamento sanitario obbligatorio. Per carità, spiega Ghiretti, mi rendo perfettamente conto che con 8.000 euro non si salva il welfare, però questo, a mio modo di vedere, non giustifica il fatto che in questo momento si possano fare acquisti di questo genere a cuor leggero. Dotare la municipale di uno scudo protettivo balistico, continua Ghiretti, appare una decisione quantomeno stravagante, a meno che Pizzarotti non si aspetti in tempi brevi di militarizzare la città o di dovere fronteggiare sommosse di particolare violenza. Giova forse a ricordare, continua l'esponente di Parma Unita, che in caso di manifestazioni pubbliche l'ordine è garantito dalle forze di polizia e, non certo, dalla municipale. Il sospetto, purtroppo, è che si tratti dell'ennesima iniziativa a spot per poter dire che si sta investendo sulla sicurezza. Peccato che le cose da fare non sono certo queste. Occorre un maggiore presidio, conclude Ghiretti, una maggiore visibilità delle forze dell'ordine, dotandole magari di più personale che possa distribuirsi su più turni, non certo per mandare in giro agenti armati di scudo. Grazie